Il professor Sansavini deve aspettare qui, adesso deve aspettare qui, adesso deve aspettare qui perché Walter Faedi sale per consegnare un premio a lei per la ricerca che ha fatto non solo sulle sciliegie, per l'anzianità in campo, è il caso di dire, e quindi ora Walter Faedi consegna un premio a sorpresa anche al professor Sansavini. È un vero piacere consegnare questo premio al maestro di tutti noi, credo di non sbagliare, per la frutticoltura italiana, grazie. Grazie, grazie a te, grazie a tutti. Io sono davvero sorpreso perché nonostante tutti i giorni riesca ad andare, a fortuna mia, in dipartimento, nessuno mi aveva fatto capire che poteva esserci questa cosa. È una grande sorpresa, ringrazio i colleghi, gli amici, tutti affettuosi, spero di poter continuare ancora a imparare quello che di nuovo viene fatto e io ho il privilegio di poterlo conoscere anche da questo evento di Vignola. Grazie a te, Raffaella, grazie a te, Walter. Grazie, grazie a tutti. Attenzione alle scale.